Buongiorno a tutti, sono Carlo Masetto, ingegnere per l'ambiente e territorio. Ho lavorato per otto anni nel campo della sicurezza del lavoro come assulente e in azienda privata. L'anno scorso ho deciso di iscrivermi a questo master un po' per cambiare, anche mettersi in gioco in un ambito che mi ha sempre affascinato, quello dei GIS e tecnologie collegate ad esso. Ed attualmente sto svolgendo un periodo di stage presso la regione del Veneto. Sono soddisfatto perché questo stage mi permette da un lato di avere un'ampia panoramica sull'organizzazione della macchina pubblica e al tempo stesso di accrescere le mie competenze nei vari ambiti GIS, ma non solo. Attualmente mi sto occupando con il progetto principale di analizzare gli effetti della tempesta Vaia che ho visto il Veneto nello scorso ottobre, ma parallelamente a questo stiamo sviluppando in sinergia con gli altri colleghi altri progetti paralleli molto formativi e interessanti che potranno avere anche interessanti.